Ha tagliato la sua treccia lunga 40 centimetri e l'ha donata ad un'associazione che realizza parrucche da donare a pazienti oncologiche. Protagonista di questo bellissimo gesto è Greta, una dolcissima bambina brindisina di 9 anni. Nelle scorse ore è andata con mamma Roberta dal suo parrucchiere di fiducia e ha deciso di dare un taglionetto ai suoi bellissimi e lunghissimi capelli biondi. Coraggiosa e determinata non ci ha pensato su due volte. Come le è venuta l'idea ce lo spiega lei stessa. I capelli erano lunghi e quindi di estate fa caldo, li volevo tagliare corti, a me piaceva un taglio corto perché volevo stare più fresca. Quindi mi è venuta questa idea, dato che dovevo tagliare tanto i capelli molto lunghi e ce li avevo tanto lunghi, ho pensato di donarli. La treccia di Greta è stata appena imbustata e spedita all'associazione Banca dei Capelli di Acquaviva delle Fonti, pronta assieme ad altre per essere trasformata in parrucca. Felice ed orgogliosa del gesto della bambina, la sua mamma. Ci ho detto mamma voglio tagliare i miei capelli solo se riusciamo a donarli. Ci sono persone che i miei capelli non crescono, a me ricrescono, quindi ho bisogno di donarli. È stata un'emozione indescrivibile perché detta da una bambina di 9 anni, mia ciglia ha fatto ancora più effetto.